Il treno regionale 10 9 9 0 di Trenitalia, proveniente da Teruna Porta Nuova, è diretto a Bolzano, delle ore 18 e 33, è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Attenzione, si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. Attenzione, treno in transito al binario 1. Allontanarsi dalla linea gialla. Vediamo le linee. Allontanarsi dalla linea gialla.